Puoi andare noi? E cominciamo? Come ti si narra forse? Non devi narra Non devi salvare questa cosa Adesso ho fatto questa domanda e forse mi narra da Ma ti domandano c'è un'avvemera io sono lì E quanto si hanno notato? Mi pare di una giovanella 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 Non mi pare di una giovanella Non mi pare di una giovanella Forse è di 30 Ancora più anni? Più anni Più anni Più anni E' di 27 E' di 83 anni E' di 83 anni Non so riparmi da meno ancora No Non so più che prima E' di prima E forse hai mandato che questa mamma vi sfrumate No Mamma mia vi durezza Vi durezza Durezza E il suo babbo La mamma vi durezza Ecco Ho i tuoi figli Gioanne Il mio figlio Frate Dessa mamma E i fratelli Gioanne Cos'è che noi con Nicola Siamo su Cugino Con Nicola I figli Bonanima Maria Di fatto Mamma Mi giochia Minori A Solumeto E ti amassi Tu siamo Gioce No Ma ero due Che so che Mi giochia Mamma Non d'entrata Mi lamento Mamma Non d'entrata Bene Lugia Non d'entrata A mamma E trattavano A me Fino Ammessato Mamma Devo ammessare Con il suo fratello Poi La famiglia E la famiglia E la famiglia Con Nicola Fino Cugino Di secondo grado Cugino Di secondo grado No Cugino Di secondo grado Su babbo Con mamma Fratello Di primo grado Tanto Cugino Ma se non c'era più affetto Ci cagliamo più Sofra di lezioni Vecce Ma non c'era manco Se hai figo Se hai mamma Se hai mamma Se hai figo E tutto Oh Noi non va più Amore Tutto il interesse Tutto il dinario E' moda E' moda Non l'ha fatto Anzi Contra questa moda E' verità Tanto Non si avvicina io Come ti vai in coma O si arragata No Perché sono trattatori Sono trattatori Ma è stato tempo mio Sì, venia il suo trattatore, la mamma e poi non era già, non era già, perché lo conosceva, mi è giocato, perché era il fizzuono, si tratta bene la mamma, non è il suo papà. Però, che è, che è, che è venuta a desigoggiare, è andata da suo babbè a sua mamma, però non si fa da lì, non era il suo. Era il suo trattatore. Noi siamo razzati 3 ore e uno frate. Abbiamo un altro 3 anni o meno. E così siamo 3 ore e uno frate. Poi la sorella prima si è cocivata, è venuta cocivata, dice che eravamo bene, esce con suo marito e non è tornata. Dai tanto, mi sono ritirata, è arrivata in un ufizio, ho trovato il ufizio, ho scattato la mamma e il papà, ho detto che si è fatto un anno, si è cocivata in nove. E forse l'ha fatto come ente di mamma? Com'è ente la seconda mamma e mi ha dato tanta soddisfazione che vi bravo. Poi mi hanno che sei diplomato. E forse non sei mai cos'è? No, no, io sono facendo giannaizza, giannaizza come sono ribambita. No, no, dai che andavo a fare la sorella mia, andavo tanto giusto assoluto, metà a metà. Sì. Poi a vent'anno, sempre chiedevo, andavo a Milotto, andavo a campagna a Coglierò lì con Don Sallo, con Brata. Non beccia mai, dico, a cheia andavo. Sempre mi sei chiesto, sempre piangendo. Dice io, poi la sicilità che andavo su Camposanto, non ero a sorella mia. Poi mi sono chiesto, non lo poteva di girare. Sì. 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 Piano e piano, vivi con tutti i sedi. Non ho pianghe, non ho potuto vivere, non ho pianghe. E poi a morire, io ho fatto tutti gli anni. Quanti? Sì. 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 Io e tutti in vita, ho già Maggie, e io i bambini, io le ho già messo su bambini. Io ho messo su Bambini, e io ho messo su suめて, sui marito. Giù 8 mesi, io ho messo pure su marito. E poi vado a me e alla mia mamma, ho proprio sesso con le gambe, con il suo centro, che ha usato, sull'accusa, sull'accusa, sull'accusa,ンフà… il babbo già dato a letto e fia a dirence ma sorella, non venia bene, però con il paese si avuta prima non fai gare poi haciò 9 anni, mi sono molto bambi, 8 mesi dai babbo a mamma, non mi sono molto bambi a mamma e tu ne voce arrivata? Devo solo con il nevo di mio, questa è la verità, poi non poteva mai scocciato, perché era 20 anni, mi sono andata, io sono diplomata, quando ho fatto un marchio, io sono stata in bida, per valentare sempre in posto d'urve, ma tanto mi ha dato tanta soddisfazione, che è bravo Forse è comente perché ci sono un marchio? No, ma non l'ha poi chiamato mai finito, vuoi te? Io lo comprendo, però la che è fiduente comente non finito? Oh, a tuttora, lo vedi bene, quando sono andata a Saliera, quando è buon fumo, in casa come io, giù giù, dicendo che non ho parlato di due, non ho bisogno di solo che mi ha dato toccato alla mia, faccio di curatore e basta, poi andavo all'icola, si colava in bravo, non avevo fatto che devi usare la professoressa, non avevo, non avevo la sua soddisfazione e così la mette già. Noi ho andato, non ero, 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 non ero piangere così, se tu continui così e tanto fai a mezzo tutto, puro mamma da che entrava a me, mi sono riavissi ancora, e sono a venti che mi vanno, mamma è molto che ha un anno, quando se l'ho giù, dopo ho continuato, fino a vint'anni sempre, poi sopra mia ma battia, se battia cosa, che battia, c'è da 40 anni, l'ulto fino a 60 anni. Però, tanto per l'ulto e tutto, non allegra mai il giorno, No, infatti. Ho morto, mi ha 43 anni. Beh, ti sei po' giovane. Non ho all'oppiato mai 43 anni, ho anche 42. Però non lo poteva. Non lo poteva. Lei ha dato che ha in due panze. E il rimontano non vivi se passi. Non... Gioventude non... Non ha conoscito qualche cosa? No, no, no. E che hanno più minore, invece? C'è un carico proprio, sapezzini, Anna Ramos. Voi, essendo da Nicola... Fai a Nicola e mi inviò io. Nicola aveva 13, frate mio, poi tessera di mio, e su 32. Sa mamma aveva 24, io su 27, dottor trese Nicola. Mamma ha lavorato io, e il babbo, no? Quindi sa mamma è in domo. Però non dà io manco un guaderno, e a fine dottor tre, dà una pagamenta. che ho una mamma mia, io davvero lì a me, e mamma comprava il sud. E così che, a sonno anno, mamma ha 20 miglia di bambini, a studiare. Devo chiedersi. Quindi l'avvocato, poi era frate mio, abbraccio. Lui è un'ora, e c'è stata la sua. E abbiamo fatto la testa, elementare. prima mia, due secondi. Poi te, non dà un po' tolato, ma andai a campagna, perché io lì a Raimis, e poi io ce lo lascio io, andavo a donarci alla campagna, e da quellì a gioia, a no, però andai azzuronata, sui te o mie, tanto mi viene, io dò un sacco di via, e c'è l'uomo, e tanto vivi, non fidi azzuronata. più un colizio, a misura, e una cosa, con questa montiglia, di una misura, di 3 kg, e poi sono tornata, e ci sono tutti tornata a casa, e poi, a gioventù, e poi, a 6 anni, ho passato su tifo, e fino a 6 mesi, e sempre coccata. Tifo, e malaria, e tanto, non si è sottile, finito, e tanto si paghia, poi, non c'era, tanto fai messo il pane intorno, quando andamero a soffrire, e poi le coccari. Sa' di, i figli sovra, ne sono andato, ai coccari, sono andata con il babbo, e alla giocare, la bomba a curare, i suoi baltos, e gli ho messo all'era, e poi, apriolito, in sipidale, andamero a sipidale, ass'entrata che erano, su deposito, questo del frale, su dei mantuno, e mi pensa che, tanto se l'amusello, è ancora ammazzato. La cosa mia, vi pronta, per miglire, non si è mozza ancora. E' molto sana, e tanto a entrare che li hanno del deposito 30 e mezzo francos ma cos'è il denaro? ma io tanto mi sono andata a una buona persona e pronto il denaro 30 e mezzo francos su quel momento tanto di interesse e poi entriamo un'amministrazione nuova non abbiamo dei colori non abbiamo dei denari non abbiamo dei denari così non mi erano di rinforzare perchè non mi erano di rinforzare così non mi erano di rinforzare così possiamo avere so' parentesi perché i miei parentesi sono i nostri figli e non mi erano di rinforzare poi venivano in questa famiglia per fare un impiego altrimenti vedi che i due non massimo erano di rinforzare che non sono ben pagati e mi erano pagato e ogni giorno e che mi chiamano 30 francos a dire, rispidare, e stanno andando a San Monza, e ti possiedi, poi andando a un piccolo luglio e a San Domo che abitavano, a curare a Issa, io mi è sempre violata che non so, non mi devo ripagliare, a curare a Issa, non mi fai che ne a San Domo e ne a San Domo. Facciamo a San Monza, ogni l'altra tanto, come faccio io, appunto, l'apriolo mi è abbaccati a San Fabio e Sofia e Sofferente, quindi mi fai lavorato non so questo tempo con l'alzamento. Tampi, la tante sono comente, avveno un parente in questa commissione, nel suo annuo, che è venuto a subito a San Monza, e gli erano scelari qui si hanno cambiato la cameretta, quando abbiamo fatto il suo salone, se non era giovane finisce, aveva in campagna, però si è venuto in un'altra grande grafica. grafico. Noi andiamo a bocata e noi che la troviamo. E sul lato a Barantatese e a la clinica, con il professor De Muro, con Gloria Sieta. E poi a Sessita è andato a me, su mare li fanno male, tanto che c'è, su sole e su matè, si è disattiva la possibilità, in montagna e tal, tanto vivi dentro i rios, in Vida Noa, con la Colonia. E con la Sessita che viene interessata, sempre sopra i idrosi mesi, non è che io la puro sopra, è andato una magnifica mia e sana. Non voleva a pagare, a tenere i suoi pisetti, vende a dire i suoi pisetti di un'altra parte, ma io non voleva. E se stava andando, poi io, da che se andava a non fia a visi che campagna, perché via canto gomo, gomo, che sono ingressata. Però io andavo a campagna, andavo a soremi, avuto a mani, appena che se andava a torre a tirare a casa, a casa mia, a casa mia. Invece, praticamente, com'è te passai sui tempi, sui pari storiasi? Tanto non c'è la televisione, penso che vieni a candela tubo, candela saluta a primo, di costruire da noi, un po' futura saluta, che vieni su dell'azio in noi, che mamma, tanto non c'è che taglia lana in tempo della guerra, mamma si è fremata a fin dell'ana, la mufilata, mamma, e poi la tessita, è fatta a manta. A frate di me, io vi di giovaneggio, di vela, la cementa bianca, c'è vela da un gioco, sui tempi le passai mesi, fatti le vane, ogni tre lì e fai mesi una garrita di vane. Una garrita di 20 kg di varina, poi te vanno tutto il panno asciutto. Noi sono nata iate questa cosa, il pane carico, sull'azio, mamma, le ha iate, da una marmalata, no? A frate mio, da un pane francese, un amico, lui, no, iate, l'hanno sull'azio, il pane carico, il gac. Sul tempo le passai mesi, ma mamma si è andata a me, sull'azio, 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 così che mamma si è mangiando, si è andata a me, si è andata a me, si è andata a me, e una madre, che si è andata a me, si è andata a me, si è andata a me no, un'altra parte. No, non, vivi che racconta io? Noi non sono i suoi sargifichi, non sono i suoi sargifichi. Sobragiari, ancora l'appo, venivano a casa, non sovrappato, non sovrappato, e mi sono andato a vendere, e mi sono andato a vendere e mi sono andato a vendere i sargifichi. mi ha sentato, quando si ha visto il video è derrotto, abbiamo visto il video che la faccia bene, poi non mi la rai a nulla, mi la dovrei andare a fare, ma non mi la rai a fare, ma non mi la rai a fare, ma non mi la rai a fare bene. E su notte vedi, ho a fare e a coscire, ho qualche cosa a fare, e poi si traccaciate, ho fai, e siamo andati su manzano e vitto a terra. Fai a fare bene, ho letto in una doma, ho il vocolo, ho il calvone, così fai a tricagliare. Un'ora di cammino, ho la faccio, 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 ho la faccio. Anche questo tempo si è piccante, e io secondo me non potevo andare al sole, perché mi ne hanno costruito. E poi io... Accordata? Accordata, ma su quello che potevo di piccante, e se mi chiede, se mi chiede, se mi manzano, se non ritiravano, la gioventura è vera, non da poco. E quindi magari ne manca usamenta qualche paricchioria? Tanto di me, io sono 6 anni, non era una paricchioria. Mamma mi manda e io, non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede. E lei mi chiede, e lei mi chiede, e paricchioria, anche poi, televisione, non mi chiede, e non la ricorda. E se non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede. E se, fu questa di Maria Caterinetta, l'ha mai intesa? No, no, no. Non mi chiede, ma non mi chiede, No, no, non mi chiede, non mi chiede. E questa cosa, non ha inteso per dare? No, no, no. Oppure, questa ricola? Le rosa sono… C'è un mozzo, no? Tanto i diana c'è un mozzo e io non dà poi mai e ti dà, mi ha detto, ma io non c'è, però che io ho più devo essere a babbo, a mamma facendo una misura, la tia non ha pulito come? Si manda una canova, vai bene frigorifero una cattaria, anzi, ci sono i bambini, e ti riporti tanto ripeto mi ha detto, mi ha detto che io non avevo mai e mi chiamava io la mattina c'è c'è cucina e mi ha detto che io sono mio e io ti intendo e disse sicura che io non avevo io e io mi chiamava io, da sempre mi lamento e io mi chiamava io e io mi chiamava io e io ti intendo senza me e io mi chiamava io e io mi chiamava io se mi chiamava io e io mi chiamava io e io mi chiamava e non mi chiamava io e io nascendero e io mi chiamava e io nascendero e io nascendero e io non mi chiamava di maturare ma io ero quando i bambini fai senza sovrapp Siegel non è bambini io ero come e quando mi dà i miei amici a giocare in campagna ma non ci si triega, ma non ci si triega ma siamo una femmina amana, non dava la tua patria sono ricas, sono ricas, sono ricas, non c'è niente non dava, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente la bottega, non dava, non c'è niente e a me dà i miei amici di casa, non c'è niente e non c'è niente, ma non c'è niente la mamma è un tipo, la mamma è un tipo ma è un tipo di figli che si triega e si triega, non c'è niente ma non c'è niente, non c'è niente invece è tutto il burriato non è che pagano i signori non c'è niente, non c'è niente e non c'è niente l'accogliere. Come proprio tutto abbandonato. Invece noi, che lei mi paga, va venito a lavorare, devo davanti, accoglì la solia, si prendeva una bella e ne si prendeva una e come non si prendeva una. Come è tutto cambiato? Come la gente non non lavorano in ripeto. Noi, non sono le frigorifiche, non sono le fontane, perché si prendeva una bella. Allora, mi diceva, fontane e poi mi prendeva una bella. E' già parlosa che la moglie non parlo e che andava a sudruglio a samonare. Forse non mi ho inteso a vedere, e che non si andava a 6 ore a samonare a sudruglio, perché se non si si prendeva una coppia. No, adesso non. A sudruglio andavamo e andavamo a ammiguita a essa gente. Poi le ore a sabba, se può essere saudade e netta. Però andavamo già su un campusanto, tanto mi sono sempre serrato. A mezzodì non si potevano andare. E poi te? Eppure a mezzodì non si ricorda se morti e nemmeno se usero a sasotto toccato la prima retta non andavamo a niente a su campusanto. Mettiamo si lasciò una soglia. No, si. E forse l'ha mai preparato su piatto? Sempre, ho comano, ho comano, devo fare ma io non lo faccio. E come ti lo prepara? Pettano se ne vuole mai, quindi sono maccaroni, su piatto sono maccaroni, sono allenato pure, poi pettano. Poi ti devono intendere su piatto? Sono faiati, lo faiati, ma non domandicano. Come ti lo faccio, le poni a fare un piccolo caso, una tazzina, una tazzina, una tazzina, un piccolo, una vetta, senza freddo, né fucchetta, nulla. Tanto come ti lo faccio, lo faccio, magari con me mi piusò, che non c'erano insieme, tanto mamma mi ha cominciato a fare, come ti lo faccio, su maccaroni, poi poni a sabbia e bitters, suco di frutta, tutto ciò che è buono, fino a coca-cola. Poi poni a fare il suino, poi a fare il sabbia. La saia, sono piatti sul mozzo, dai su sera, che si stai a toccare al mozzo, fino a saterudie, a sardeghe, da che veniva a toccare al mozzo, la campana, tanto si potevano a manticare. Tanto sono maccaroni, mi lo scaldi, mi lo manticai io. Ho fatto il suino, che ci ha lasciato uno che bufa, ma io non si abbia bufati l'iniezione della mia amicizia. S'abbè mi ha bufa io. Poi mi hanno detto di me, mi è levato il suico di frutta. Poi mi hanno dato l'azienda e le prese, le prese 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 le prese. perché le faccio i miei mamma di bacca, perché i suvani sono lottati, faccio la sigla, l'ingravamento, la rughe, il freno tutto, la mente di bacca. Lo faccio i suvani, gli occhi i suoi. Il cuore i suoi, il babbo che lo faccio i trezzi, il fratello i duezzi, cosa che i suoi dicono, ma si diceva che 8, il fratello dei figli di alcune se vede, le diceva che era in un problema, ma tutto il fratello o le ciro ad魁. La rinascita, non ci rinascita, ma spaventò i tuoi e le vengono. Se appena vedeva i suoi panno, i suoi panni paghia i suoi sali, i suoi panni e i suoi sali, i segnali, i suoi panni. non è che io faccio, come però non devo tutto pagare, non è andato a noi su di mia, ma di che la tua mia lo pagano, e lo faccio ancora, e lo amicino con i mesi, come si è fatto il baffio, carica pericata a la vita, ecco la gioventù di mia. Sono conto su di Uri, la leggenda di Comentano Cattato, la Madonna dei Paoli. Cos'è l'intendea che io dico mano a mano, che anche il nostro signore in Paoli non la vogliono mai muovere. E' passata in questa corda. Ma compresa, la sabonate di Uri, la sabonate di Uri, la sabonate di Uri. E' partita ora e che si è finita. Poi venendo questo padre bianco, si furono appena a contendere e poi l'hanno molto. Per un momento di una bella che avendo un pregatore, che era io, doveva entrare in guerra. Ed è piccata a Paoli che è andato, già mi sei niente, ma io con questo modo dell'umare, ma c'è gente, tutti incantate, mi direi che c'è mia mamma che c'è il figlio, però lui, non dico così, io ho intenzionato sicuro, perché c'è la femmina che ha fatto, più o meno da due giorni. Come qualcuno vuole nascere, io questa cosa la contendono, ma che c'è il modo non è moda, c'è buono sensi, c'è buono sensi. Io sono inaffidabili, il birù è più, però già venne, lì c'è chiudicato, e il marito tuo vuoi tenere a lavorare? Tu se devo la ferma, che no? No, ha fatto una matrimonio, se ti può. Come ti no ti puro, cosa la gente non perché recrere, lo perché in nantes, subvenzamento, perché si conoscere, uno che saperò, fai il subvenzamento, entrerà dentro, si non andai andai a cosa, carattere, la sella, non è fallata, non ve, e c'è come? Pagai, dentro la televisione, che non lo intende, poi c'è tra i suoi marito, ma lì è un avventuramento, non vale il senso. Una, se la persona sua deve essere ripetata, non possa, non ha avuto il segno, in nanti, vai a più, ripeto, invece, come? E se c'è la razione, non ha inteso, perché la razione è su dolore sa con capazza, ma che nessuno, no? Su dolore sa matta. Eh, come te? Eh, erano fatte male, su dolore sa matta, su dolore sa entra in liceo, li paghiano la sarduca, tutto affare delle pregatorie, poi uno vizieto via anghiata, non era che io via d'asso, non mi dà mento, non era. Li paghiano la sua razione? No, tanto li paghiano, lo venivano a matta terra, lei hanno su dolore su, e beletano sa valla a voi, e noi sempre mai ha su dolore su, in cosa, attacchiata, e il dolore di cuore. Ah, e quindi li paghiano praticamente? Eh, questo, vengono a Santia, e la pregatoria è antica, se per te è un dolore? C'è due dolore. Eh, noi santo, quando, per esempio, com'è di si colcare su un elettore di patrocontone. Patrocontone si bevono, due in pesa e due in cavità, non fra signora che fa domicile, e delinare tutto il mio raposo, non per parlare di una cosa, non per parlare di una cosa, non per parlare di una cosa, Poi, tutto il mio figlio, e il mio figlio, e il mio figlio, il mio figlio. E quante altre persone? Poi Gesù Santo Raffatore ha scoperto in venute, domandeva a lui che è notte, Gesù Cristo è morto, Gesù Cristo è serratto, entrò il mio pilato e fino a tutti, quando andavamo a fare lì tutta la canta corruttata, quella che mi ha parlato come una bulla o una cadena, con ciò che ha fatto la pena, con ciò che ha fatto la legge, un ufficio che veniva tanto uomo e tanto amato, da Isoquello falato, falato senza natura, questa bella creatura, questa bella Trinità, venite adorare, ciò amò che è nostro Signore, Gesù Santo Raffatore e ciò è una bella vita, ciò è geniata di questa cosa, sai come intende? Vieni cantata, vieni cantata, non l'hai mai intesa, Vieni cantatemi, ballanzo solo la creatura, vedete, sa giraturo e dice, Gesù Santo Raffatore Quando ballatemi così la creatura? Sai giratura sotto un uomo e poi fai che per la ricetta, e no, è mica, Gesù Santo Raffatore E quindi le cantate tutte le cantate? Tutte le cantate. Poi nel nostro regno vi vede come una moda a cantone lunga. Non mi lamenta. Cosa cantare? Cosa cantare? Cosa cantare? Cosa c'è? Tutti i cantati? L'antica. E' il salto. Cosa c'è? Cosa c'è? E' il salto che c'è? E' tutto cambiato. Cambiato la religione. Cosa preghi più il peccato in nanti. andavamo a campagna. Cosa c'è? E' un salto. 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 Poi ripeto, io sono soffritto, e tutto, come se i pantaloni quando vado a prendere quando vado a prendere. Come sotto? Fizzate i cagli. Che già te ne sei giovane? Eh, ma da andare a prendere i cagli. E' giusto, non sono più giusto. Poi andavo a passare i cagli su dei cili, e mi fizzate. Poi te l'altro sono mante, quando ti fai che te sei conto. Se vi fai, vi fai. Se vi faccio la cagli sulle patate a cagli. Tanto mi cagliamo che mi fudì. Il pane francese, ma ci faccio stare a casa. Non so vanno, non ho poca una violenza. Io se mi preghiate appena, sape anche. Non mi preghiate. Manteca, non mi preghiate Dio. Manteca! Ma non mi preghiate. E mi preghiate. No no no, mi preghiate. Non mi preghiate. E mi preghiate mi preghiate. No, non mi preghiate. Non mi preghiate anche. No no, si cerca sempre i nove. Ma io i nove. Suppi, lo sorrimi a se. lo facchia tanto tutto al'angele e io l'ho impegnato sempre di dato, dopo non lo carico, non lo faccio così, per voi, nonostante anni, non fa 80 anni, quando mi fai vicino a me dice me, questa volana, la bai, la moneta, mi dice che era un bello, io sono anche a me, è un bello, non bello niente, però c'è dopo. San Vulana? Sì, San Etta, San Etta, sull'uomo è andata a bai e ti raccomandava un'altra e il filisteica quando vado a sull'età ho letto un sacco pieno di pazza e tricomindica perchè vado a sull'età e ho letto un sacco noi pure abbiamo sentito adesso ho letto da mamma fino a Pumo ho fatto la tavola in Italia quando ho vinto il battolo da fidare come si è nata a Pumo? a Pumo e finì in colore però ho fatto la pintura e io non ho capito che vedi la pinta sa che ho letto e non ho letto e non ho letto in terra e non ho letto e non ho letto in colore e non ho letto e non ho letto invece di cosa è la bellezza ciao e cosa è la bellezza invece di cosa è la bellezza è incantato tutto il bando da lui e poi te lo dà ancora a salvizzare le viaghe ad affidare la città fino a fuori e noi si usano da regalare i nari che hanno affidato tutto così che sul letto viene pieno i nari poi hanno fatto la fotografia bellezza perché non ho disegno che si pagava questa immobili e tutto perché sono regalati e finì no e ancora ho letto ma non ho letto e finì la mesiglia tanto che ho messo la tiazza e che era una cosa che era buona e ho messo la mia non ho vinto un salotto poi ho letto e non ho chiesto e poi ho chiesto e poi ho chiesto e io non ho letto e poi ho letto e poi ho letto però ho chiesto e poi ho chiesto è diversa no ma invece è piu' un'altra cosa piu' un'altra cosa piu' un'altra cosa e poi la menta poi ti ha pulito i miei ragazzi è passato sopra e quindi ne manco se la goti non so e poi vissata come te fia si è tornata a nascere tutto il necessario e impari pure come piu' un'altra cosa non ti vuoi ne manco tutti mi dicevano tutto ci siamo inquinati a lanciare e a camminare come di nera una vina comente a buffare comente a maticare ma tu hai impari già a me quando c'è un'altra cosa come c'è un'altra cosa non si imbruttare la cucina dai cusci non lo so ma io non lo so ma io mi chiedi come ho capito come se non è a me si è a banca libera ma io mi chiedi ma io non mi chiedi come chi è il panino a manca chi è il dresla e io non dico i tegheri, ma io ne mangio questa cosa fa che non fai male e così è, poi devo, che io ne ho imparato a fare il suo secondo e prima aveva il piatto unico il piatto unico, dal buon momento mi ha detto che ne sa fai la buccia, è bucciata, non mi ha detto io però tanto fai, mi ponivano sull'alto, si mi ha detto io come non chiede e io non mi ha detto che è un po' di tre quinte e io ci ha fatto la farina, lo faccio in tre sedate diceva prima il bufere, poi il bufere, poi il bufere, poi il bufere e poi il bufere, e poi il bufere e poi il bufere non voleva mai fare, mamma lo faccia da ciccione già lì c'è la mano, se c'è la bagna, se ha fumato a piccolo e se c'è la bagna, a me le faccia da bruciatura e io sono bianco, e noi come invece il vaso è più caro ancora e infatti, infatti, qua quando fai, fai che panno, sabonare sabonare, sabonare nemmeno su troglia e invece come noi che nelle altre sa cosa si vuole un'automatica non dichino, appena che si è zitto non dico che non dico che si vuole un'automatica che vuole un'automatica che vuole un'automatica non dico che mi tapa non dico non dico che mi tapa lì è già lì e costano noggio. Io mi chavo niente, io vorrei che cambien, però come diria di una altra gioventù, non è bai da iana negozi, c'è giù a iana, decidiamo di affidare, una vecchia, macarroni, tutti impagiamo ora, come tutti i ristoranti, battigiamo, poi ci lamentano che non è andata, tropeziamo. Ma un'ultima cosa, che ti ha pregunto, forse hai inteso che fai dare a giù, no, giù, no, giù, no, 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 ma poi lo fa grattinire, mi ammento che te ho creato una innoche, mi sono fatta la sottomia, ma io figa, e, su caldo, se me mi sono fatta il sole, e mi ammento che te è dovevo ripetarlo, mi ammento di fatto che te lo pietre di tutto, e non lo fa grattinire, costa, non vanno niente, non vanno niente, con un'aggrelle, non vanno niente, un'unipidum, e te ho detto, mia andò mi sono asciuconata, mi sono accantoate a mamma e mi sono aprimato proprio. Infatti la donna mi sono chiesto, non mi sono così, non mi sono mai scoperta. La donna non mi sono accanto, la mamma è solo, non ho capito. Purtro Maria Marronca ha intendiato la donna. La donna mi sono solo, non mi sono accanto, non mi sono accanto. Poi ne mette, ma tanto... Invece come non... Come non è che nemmeno pescello? Loro si fanno tutto ciò che era. In Nanti, che non aveva giocolo, era lì che si giocano, un'età, 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 un'età dentro, e la mamma paghia la pagina. E io diceva, devo via, faccata, e mi ha portato dentro. Non lo faccano, non lo faccano, non lo faccano, e poi hanno cominciato, a mezz'ora, che è nato, come il tutto è cambiato. Tanto non ho pagato la televisione, non ho pagato la radio, andavano a fare ciò, non lo faccio, andavano a fare ciò, andavano a ballare. Poi la stazione cattolica, quando andavano a ballare, quando andavano a fare ciò, mi faceva il ballo, che non lo sopavano. E, vedete, è giusto. E ti è il ballo del Sazza? No, non lo sopavano, che gli facciano il Sazza, e gli facciano il ballo, non lo sopavano. No, non lo sopavano mai. Forse, quando un minore, si mette da, quando questa famiglia pagava il suo reposo? Il suo reposo? Il suo reposo? Sì. 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 l'offerta, sul pregio, mi dai dando il suo. Ah, l'offerta è minima. E, ogni giorno, la manzana, vuoi che sia sul bosante, tanto, non ci sono davvero, ma ci sono. Mi chiamano una cosa, e, perché non ho fatto i fatti, e gli ho detto, che gli ho detto, che gli ho detto, e gli ho detto, gli ho detto, gli ho detto, mezza sora e ficcai la paghese, come? E tine ore che gli dai a vendere, ma non c'è pa' una, in 0,7 era, e tante le offerte, ma a me ne vinte ore, non devi dargli una, come sora chiede, però la fendono a tutti, ma io credo che cosa abbata, ecco, e noi sono mia, mamma e noi, babbine, tanto è una meraviglia, a più ore e vento, si muoce bene a più e non c'è più, ma io sono calcolato, e da più, poi, no, 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 che c'è, io, grevo, ciao, ma, mi grevo, tu non mi che ne credo, la sade perché, però, i settano, sono morto, non c'è stata, ma non c'è tanto, fatte tanto, ma che diano sono morto, non mi hanno Il primo anno è passato, è diventato il nome mio, è nato con Cezzi, il nono che sono andato a Teletomo, che sono andato dai suoi babbi. L'arrivo da questa vita, senza lamentare di questo. O l'arrivo che non l'arrivo, manca un babbo non so mai, o l'arrivo che ha finito. Poi si è entrato, si è entrato e diceva, non è che il carrile Fontana non è che si è tende a me, è giusto da riposso. E sono andato con l'uomo, dai che è diventato, a vendere i suoi no, che sono andati dai babbi. Ma ti è lamentato che sono andato. O lì non era, manca un babbo non so, è un'arrivo che ha finito. Così che cosa, che te lo dico. A forse non l'ha mai capitato? No, non, poi non l'ho mai capitato. Non, 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 non. Non so, non so. Quando dormire, non ti è venuto la televisione, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Una, è andato a Lourdes, non c'è la bocca. E poi, dicendo, non c'è questa bizzata che li prendeci. che aveva naponato, cosa le vCCI fanno? E poi, dicendo, non c'è, in grado di aver bisogno di cantarei al vostro. Che è vero, e che è il tuo dolore? Oh, credo che è la preghiera, che ha prescato il bisogno, e adesso è prescato il bisogno. Che è un sacco di bisogno? Così che è dipendente da accupare? Che è credo? Che credo. Io credo. Ha un poco di speranza di cose. Se non ho intervinto delle cose, mi sono andato in vano, così che ho preso per l'ansia che gioca un po' fatto. Penso che non pensi nessuno. C'è la benetizia e le ho fatte di dire che non puoi andare a luogo, non cammino, non posso camminare. Poi mi sono andato in macchina. Poi mi sono andato in domenica e mi sono andato in macchina. Però la cura non è andata. Forse mi sono andato. Non ho fatto il dolore. No, non ho fatto il dolore. Non ho fatto il dolore. A me non sono andato in casa, ma mi sono andato a casa. Non ho fatto il dolore. E poi mi sono andato in casa. Non ho fatto il dolore. Non ho fatto il dolore. Perciò non è andato a luogo. E' un dolore. Io ho fatto il dolore. Ah, qui? Eh, la madre che è andata. Non so se lo vedi. No, non so se lo vedi. Così che il cuo già è notato per la sala entrare. Sono resti verso il girello. La sala è passata una, ma ha fatto il riso. Ciao, ciao. Però no. Non si lasciava essere serata qui. Così che, appunto, ne vado per un'ipotesi. Mi adorano. E mi chichano. E la chiamano sempre. Che ha dolore? Come ti dice? Non posso camminare. E allora, non posso lasciare qualcuno. E ti ha fatto in tenere la ghera. E ti ha chiesto un altro. Sì, come te. Comunque, mi ha fatto piacere. Ho già trovato una femminile geniata, una femminilezza ribambita. No, 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 no. Invece mi ha raccontato cosa che è importante. Sì, che è importante. No, non mi sono importante. Perché, sulle cose che ti ho, come il crio. E tu sei più santa. E tu hai crio e si fa che cacchi libero. Tu hai cociato il senso. Sì, sono cociato il senso. E grazie a te, il marido tuo, tu hai. Tu hai detto, non metto la meta. Un'avventura. Sono uomine. Ma hai santo Antoni, ma hai te ventura che... Non fa buono senso. Ma che sa famiglia. Ho andato sulle televisioni, via può l'agganzare. Cussa, che è rialleata. E poi, questa giuria che bella, che sono trega. Adesso arriva una isa. Ma che arriva una isa. Non mi dite che si è variato. Purtroppo, come tutto girato. Come inanti, come in mente il suo babbo. Come il suo babbo. Come il suo babbo. Come il suo babbo. Il suo babbo deve ponere in mente il suo figlio. Ma il suo figlio. Ehi, questo è buono. Perché, Leonardo, che sape già dire? No, sorellina, è tutto cambiato. No, sape già dire? Beh, vintrata. Poi, se tu ti fai che ripetare, ti fai che ripetare. Se no, ti fai che ponere il suo tese. No, no. Poi, li danno tutto gioco. E poi, su unica cosa. Che ho feo. Adalante il suo pisello, il marito e il mozzetto. Il suo babbo non si deve ponere in mente. Poi, magari, potrà ragionare. Non li cuore. E gli dà a mamma. Più la briga. Più la lasciano. E non può mandicare di tutto. E invece, il suo babbo è un aracchino. Il suo mamma è un aracchino. Poi, l'altro, è la libertà. Il suo bisello è la libertà. Il colcio non è pesativo. No, no, no. Cos'è che? Che sai te? Dele, devo preguntare un'altra cosa. Sicuramente, devo escire questo il cosiddetto. Chiedo sull'uomine me. No. No, ma la Ponzo è anonima. La Ponzo, eh. Sicuramente non chiede più. Chiede nessun nome. Come ci ho chiesto uno. Ma che ha fatto un libro, come? Ha parlato. Non le comprate le cose mie. Bene, non aveva un libro. Non c'è tutto ciò che ho mostrato delle grazie. Quindi, a me mi ha fatto male, intendo, la primavera mente non posso radattare giusto, se no è giusto. Adesso non ho già già. Dopo che non leggerla, non ho pubblicato. Come mi hanno chiesto le comprate. Adesso, non ho già creato tutto. ciò mi ha mai detto, in me, molti di crascia, no? Eh, eh. No, adesso, devo lavorare. Questo, a tendo è libero, a posto tutto già. e ti dice che ci siamo soffritti, ci siamo soffritti, non soffritti ognuno è che di solito lo risulta? eh, due, perché sono male, tutti sono male mio senti che non lo so che tutto ci siamo approvassati e ti dice che ci siamo approvassati, non è approvassati tanto non ho vinto io a te aiuto a te no ho vinto io a te no ho vinto io a te no ho vinto io a te non sono andata mai a pedire, a cumore, a te nuda, nuda, no no mamma non era io a figlio mia, siamo andati a bossa canna noi c'era matta, da che piena si è parte della luna niente si lamenta che ci siamo indietro che non gli siamo portati a nuda così che tu e voi te che rischia il giorno a mio pensavo io tu e voi te tu e voi si possa fare tanto non faccio niente così che quindi teo libia nera così che era il Forteco e io la ponzo anonima come te, tu che ci chiedi Minaro eh io me l'ha ponato come Minaro no, ma come da me e forse non mi è piaciuta attenta Deo Minaro, anche la Simula che la Simula è nata da 98 anni su con i barri di su e si poggia di 2 ore sicura e si ha proprio sentato quella ma anche la Simula, ma che è sempre sul letto da 98 anni è come una bambolina ma anche la Simula ma ha avanti su reso che è andata no no sono simula mio, sono in razza ossesa non mi è un figlio di ossi, quindi in Assolumedo che è un garretteri e il bambino è in Assolumedo eccolo eh è un figlio di un fratile che ha affidato e mi ha fatto la partecipazione di una da lui però abituata a Naro di Osso di Botto e poi il Solumedo che ha fatto già Sarumedo che è la mamma di�se e Malaita non dico se è morto su babbo ed è ritirata a Solumedo l'occhio più bello, però abita solo un mese. Un annetto l'ha filato, è giovane, mi ha fatto già un uomo, io sono ammorata, un uomo è bello che è giovane, il suo babbo è stato bello, finché il fratello. Ma è possibile me lo con un uomo? Poi è giovane, poi ha insalzato e sta ancora sul mese, qui l'ha appoggiato che siamo su l'utroremia, poi lo facciamo vedere di un ipotemia, qui due giorni, che aveva una malattia che mi hanno fatto, sovranco, 40 anni, 40 anni che mi hanno fatto, e molto su un mese di marzo, non si pia che era mangiata l'idea, ma non si pia che era bambino, ma non si pia che era bambino, poi si pia che era bene sicuro. Invece poi, con la terrenola che ha fatto, ma tutti i risultati, si pia che era, non si pia che era. La sala d'ufficio, sono andato a casa, e noi bambini, e i suoi babbi trevalenti. Così che siamo abituati, non siamo abituati, non avevano un uomo, seppia anche alle parti, come è fatto noi, dopo mette la ponte, inoltre si comenta, e i torni non ho fatto, mette le piante, e piante. Vedete pure Michelina, una cugina che mi sono lavorato, che viveva giocata con una pina, e che abbiamo fatto, buongotto fino. L'alleato per il ricco è ricretario. Dionigia Kirchio, sono un nome mia, si chiama Iagai, così che mi chiamano in santo in italiano, mi chiamano Dionigia Kirchio, però i nomi mi chiamano Denuisa, venuisa. Allora, quando erano italiani, c'è Dionigia. Bellissimo, sono veramente bello. Mi chiamano a metà di Dionigia. Ma chi è santo? San Dionigio, non c'era pure di Dio Maria, Vescovo. Ecco voi, te. Io sono sola, però i nomi, mi chiamano, mi chiamano, mi chiamano Maria Agostina, e io mi chiamano Maria Agostina, e io mi chiamano Maria Agostina, e io mi chiamano i miei, non so io. Così che, su vizio che io, la signora d'Antoni, sulle miei mambo, Antonie e io, la signora d'Antoni, il suo senato, il suo marito di sua femminile, che mantanno, al sottomesso, è un ufficio di incidente. con il suo figlio di Antonello, che è stato sindaco in Biltà. Ah, Antonello? Risso. Ah, suennimo. Poi l'hanno adorato a leggere, due abbozzate, come a due figli, due paladini, la sua famiglia, non è proprio il suo amante, ha pensato sul papà, a lo conoscere, non mi ha dato, ma, anzi, e mi chiamano, non è che amici, però, la sua figlia è proprio la verità che mi chiamano, e mi chiamano, un anno da 31 anni, già da 27 anni, come la ragazza non si conosce, mi ha nato una ragazzata però non la conosco, da che fida non me l'hanno nata, si è nata camminata e devo affidare ma io non ho chiesto affidata, parto in città, ho detto eh, che si alzano, mentre si conosce si, 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 così che con la famiglia mia, voi penso, non vrate, ma io ti pago, a trefiggio la femmina, così, e io non vi domascio, beh, grazie, proprio sono stata regionata che lo stavamo ma dai cuciate tutte, ma no, ma no, se no, succede per me che l'ha cuciate e l'entrata su, la missionerica, io sono passata e beve, non l'ha, cuciate ai cu, e neanche c'è tutto il dolore, mi rende un'ora che sono lì che io per ora, la verità, neanche neanche appanato, non mi confessa, dite la confessa, neanche, la mamma mi chiede confessato, non ho confessato, ha tutto il dolore, buona notte, come cazzo, so si, di che passai i migliorventuti, potevi da essere il digiuno dalla mezzanotte fino all'ora della comunione, e io prima mezzanotte bufai, poi passata la mezzanotte e mi renderei dentro e si dice, non bufai mai, di abba, fino a sopra la comunione, dito, tutto cambiato, e quindi, ha tutto il dolore, ha tutto il dolore, in italiano, però, io Dio, mi pento con tutto il cuore dei miei peccati, gli odio e le tesso, come offesa, la vostra maestà infinita, cagione della morte del vostro divino figliuolo Gesù, e mia spirituale rovina, non voglio più commettere un avvenire, propongo di fuggire le occasioni, Signore, misericordia, perdonata. Dio, come non di nara, non manco va. Su babbo nostro, si ha detto quello, santificato sia sull'omerso, vendendo a noi su regi usò, fatta sia sa volentà di sua, comente il sugelo che è la terra, suvano ai nostri ogni dia di noi, perdonando i miei amici a noi, un deserrore, in tentazione, ma libera di ogni male. non l'antica di 70 anni, no, non di lì sono niente. Di dicio, mi sono 2 anni, mi sono 1 A, per le sollevola pure. E vinciamo a vivere, vinciamo a vivere, vinciamo a vivere, ho appuntamento con due anni, però di 70 anni che significa poi,